Siamo con Nolè, si è ritornato a Terni dopo la militanza con la casacca rosso-verde, nuova squadra, la Virtus Verona quest'anno aveva incominciato con il Pro Piacenza, ci sono state tutte le vicissitudini che ben conoscono, una gara che la Virtus Verona ha affrontato con il piglio giusto, abbiamo visto una squadra combattiva che ci ha creduto fino alla fine di portare a casa i tre punti, poi la Ternana con la doppietta di Pobega è riuscita a ristabilire il pari. Sì, sono tornato dopo 4-5 anni qui, sono stato accolto veramente alla grande, ho vissuto degli anni bellissimi, quindi per me qui è una seconda casa e ci torno sempre con piacere. Poi parlando della partita abbiamo affrontato la gara, penso con la giusta concentrazione, un giusto appiglio, abbiamo messo in difficoltà una bella squadra, è solo che come ci capita ultimamente prendiamo sempre i gol negli ultimi minuti e sicuramente dobbiamo migliorare qualcosa. Ecco, come detto, torni volentieri qui a Liberati dove ti ha visto protagonista nella stagione 2011-2012 con la bellissima promozione firmata voi e Toscano. Oggi comunque il pubblico ti ha applaudito, cori di incitamento, comunque c'è una forte stima, ho piacere comunque a ritornare a Terni, c'è una stima anche da parte dei tifosi ma non solo da parte loro nei tuoi confronti ma anche di tutti quei protagonisti di quella bellissima calcata. Sì, abbiamo fatto un'annata, penso, incredibile, bellissima, nessuno si aspettava a inizio stagione, però poi abbiamo vinto il campionato con tre partite d'anticipo, quindi abbiamo ammazzato il campionato e è stata un'annata che nessuno di noi potrà mai dimenticare, infatti ancora con tanti di quei ragazzi ci sentiamo e ci vediamo perché il gruppo era la marcia in più. Nuova esperienza qui a Verona con la Virtus, che squadra hai trovato, che ambiente hai trovato? Ho trovato un ambiente, un clima un po' pesante, giustamente le aspettative erano le altre della Ternana, la squadra è una buona squadra, giustamente qui conosco bene i tifosi e loro vogliono tanto perché per loro la Ternana, le Ferre è tutto, quindi li capisco, però come sempre sono sempre arrivate da brutte annate, hanno sempre reagito e hanno affrontato poi le annate nei migliori dei modi. Grazie Angelo, in bocca al lupo per la tua esperienza. Allora, siamo con Gandolfo, attaccante della Virtus Verona, è sbloccato il match nel primo tempo, poi nella ripresa, errore del portiere, siamo andati sul 2-0. La Ternana ha recuperato, è venuto fuori un pareggio, però c'è il rammarico da parte vostra per aver sprecato comunque questa ghiotta occasione? Sì, c'è molto rammarico perché la partita si era messa bene, ci tenevamo a fare una bella vittoria fuori casa, sarebbe servita molto anche per il morale. Come succede spesso negli ultimi minuti, veniamo puniti, sicuramente ormai per colpa nostra perché è una cosa che dobbiamo risolvere noi e quindi c'è molto rammarico. Questa volta però comunque un punticino l'ho portato a casa rispetto alla gara contro la Triestina che ne è uscito fuori una sconfitta, quindi un passo in avanti. Sì, se vogliamo guardare il lato positivo un passo in avanti, ovviamente anche perché la Ternana è pur sempre un'ottima squadra. Quindi cerchiamo di vederla dal punto di vista positivo. Ternana è un'ottima squadra però in un periodo di flessione, un periodo di appannaggio sono venute a Terni diverse formazioni come la Vispesero, come il Fano hanno portato a casa il bottino pieno poi invece purtroppo da parte dei nuovi ternani questo punticino. Però il campionato della Virtus Verona è un campionato che comunque vi soddisfa oppure abbiamo letto uno sfogo della società con un comunicato dove ci sono diversi rammarici per quanto concerne arbitraggi. No, ma noi non guardiamo come squadra l'arbitraggio, noi dobbiamo pensare a noi. Ovviamente non ci soddisfa finora quello che stiamo facendo anche se abbiamo dimostrato anche oggi come in altre partite di giocarcela un po' con tutti. Quindi dobbiamo migliorare da questo punto di vista. Grazie e mocca al lupo. Prego, grazie.